Grazie, sì. Vorrei partire richiamando un po' alcune questioni che sono state discusse ieri in una tavola rotonda coordinata da Emilio Misuriello che aveva il titolo Shaping the City che fondamentalmente parlava di sviluppo territoriale, di sviluppo urbano in cui sono emersi una serie di temi. Uno, forse quello che è sembrato più forte a me ascoltando i relatori, era l'influenza che i singoli sistemi hanno sullo sviluppo territoriale. Si è parlato di trasporti, si è parlato di infrastrutture verdi, si è accennato ai beni culturali e alle relazioni tra questi sistemi e anche agli aspetti economici dello sviluppo territoriale. E parlando di sistemi credo che oggi sia imprescindibile parlare di collegamento tra questi sistemi nell'impostare le scelte progettuali. Poi si è parlato di orizzonti di piano, cioè molto spesso oggi si fa una pianificazione che guarda al domani, ma al domani nel senso fra un giorno, mentre forse sarebbe opportuno guardare a scelte più di medio o lungo termine, quindi a orizzonti temporali un po' più ampi. Ieri è stato presentato il caso di Milano dove per esempio tutto lo sviluppo urbano attuale di Milano è stato pensato quasi 20 anni fa. E si è avuto la capacità nel succedersi delle varie amministrazioni di portare avanti quel disegno al di là delle scelte politiche contestuali. Un altro aspetto fondamentale quando si parla di territorio è la governance. Siamo sempre di più, dobbiamo a che fare con sfide, con la collaborazione tra diversi attori. Non si è parlato ieri, ma lo aggiungo io oggi, di valutazione d'impatto, che è anche un aspetto molto importante. Un altro aspetto che è emerso ancora è il ruolo della tecnologia nelle trasformazioni del territorio. Oggi abbiamo un forte sviluppo tecnologico per esempio nei trasporti, ma non solo nei trasporti in tanti settori. Queste innovazioni forse ci consentono di affrontare il progetto in maniera diversa, in maniera nuova. Cioè ieri si è citato il caso di Roma, si diceva ogni giorno a Roma entrano 800.000 persone in macchina e ci sono 70.000 parcheggi. Allora il problema è come lo risolviamo? Facciamo più parcheggi? Oppure pensiamo di avere veicoli autonomi che stanno continuamente in circolazione? Allora riusciamo a ottimizzare, a ridurre il numero dei veicoli. Ecco, e poi come sfondo di questa discussione si è parlato molto di dati e di informazioni e si è parlato un po' meno di conoscenza. Adesso io vi presento questo progetto a cui ho lavorato nel 2018 e spero di riuscire a dar senso di come in questo progetto, seguendo l'approccio del geodesign, siamo riusciti a mettere insieme tutti questi aspetti, queste cose. Quindi vi dirò, introdurrò geodesign, credo di essere l'unico che parla di geodesign in questa conferenza, quindi darò qualche definizione. Il mese scorso era Redlands al quartiere generale della ESRI e invece abbiamo discusso quattro giorni solo di geodesign con Jack Dengerman che ha inaugurato gli eventi. Vi racconterò cosa abbiamo presentato a Redlands, quindi i risultati del primo anno di attività di questo international geodesign collaboration e poi farò un fuoco su aspetti un po' più concreti col caso di studio della città metropolitana di Cagliari per farvi vedere come noi abbiamo provato a utilizzare la tecnologia per supportare il progetto, di un progetto complesso. Allora, geodesign, tre definizioni notissime per chi si occupa, per chi lavora nel settore. Steinitz è uno professore emerito di Harvard, ormai 80enne ma ancora molto attivo, che coordina tutto questo movimento internazionale di persone interessate al geodesign, definisce geodesign come modificare la geografia attraverso il progetto. Quindi si parla di progetto che è fondato su una forte conoscenza geografica e che a sua volta modifica la geografia. Qualcuno ha parlato anche di geodesign in termini di utilizzo delle tecnologie GIS, che è il tema principale di questa conferenza, dicendo quindi facendo intravedere una figura di progettista che sa usare bene il GIS e con questo riesce a sviluppare un progetto più efficace, più efficiente sotto tanti punti di vista. E anche Dangermon stesso, che è una delle persone che hanno inventato questo termine nuovo, insieme a un gruppo di accademici nordamericani ed europei, dice anche che geodesign è sia una vecchia idea che una nuova idea, nel senso che questo tipo di approccio che ho iniziato a illustrare non è nuovo, il rapporto tra geografia e progetto, in tante scuole si è studiato per anni, ci sono tanti autori importanti forse nell'ultimo secolo, però oggi cosa cambia? Cambia il fatto che abbiamo a disposizione delle tecnologie che abbiamo visto in questi giorni, che ci consentono di lavorare in maniera nuova e quindi di produrre innovazione nel progetto. Ho riportato questo schema che uso molto spesso, oggi siamo abituati sempre di più a parlare di valutazione di impatto quando si parla di progetti di infrastrutture ma anche della pianificazione territoriale e normalmente si intende valutazione di impatto in termini di sviluppare un progetto e poi valutare il possibile impatto sul territorio. Molto poco si parla invece di sviluppare il progetto guardando al territorio, questo riusciamo a farlo molto meno se andiamo a osservare le pratiche in Italia come in tutti gli altri paesi europei. Geodesign cerca di dare una risposta a queste problematiche. Per avere una definizione più completa possiamo dire che Geodesign è un approccio alla pianificazione spaziale fondata su un processo integrato che include tecniche, metodi e tecnologie, le due cose sono strettamente legate. Possiamo usare male le tecnologie se non abbiamo un metodo o possiamo avere dei metodi sedimentati nella tradizione nelle varie scuole che però senza tecnologia non riescono più a stare al passo con i tempi. Per fare che cosa? Per sviluppare un processo integrato che riguarda tutte le fasi progettuali partendo la raccolta dei dati, l'analisi, la valutazione, il progetto, la valutazione dell'impatto, la partecipazione, la collaborazione del gruppo di attori sempre più ricco con cui ci troviamo a lavorare. Steinitz che è uno dei principali autori in questo campo ha proposto il famoso framework per il geodesign che ci dà un po' una linea guida, un modo di organizzare i processi per riuscire a raggiungere questi obiettivi. Questo è lo sfondo. Il termine geodesign è vecchio, poco più 10-15 anni, è nato in California dalla collaborazione tra Esdry, Jack Dengerman, Mike Gullchild, professore di Geographic Information Science, colui che ha creato il termine Geographic Information Science, professore all'Università di Santa Barbara, e Carl Steinitz, professore di Landscape Architecture dell'Università di Harvard, che guarda caso è stato professore di Jack Dengerman, perché Jack Dengerman prima di creare la Esdry si è laureato in Landscape Architecture all'Università di Harvard. Invece di fare il progettista, siccome già in quel periodo a Harvard, a fine anni 60, si iniziava a usare le tecnologie informatiche per supportare il progetto, lui ha deciso di investire in questo campo e poi ha creato l'azienda ormai leader mondiale nello sviluppo di tecnologie informatiche. Nel 2018, dopo dieci anni di discussioni, Steinitz, insieme ad alcuni altri colleghi, ha deciso di mettere un po' a frutto il dibattito che si stava sviluppando e iniziare a lavorare insieme in maniera più proficua, non solo incontrandosi un paio di volte all'anno per conferenze, ma proprio per lavorare insieme. Ho messo su, in tempi rapidissimi, un gruppo di 100 partner, prevalentemente universitari, magari qualche azienda, qualche centro di ricerca, in tutto il mondo. Qui si vede poco nell'immagine, l'ho messa un po' piccolina, però potete vedere che in tutti i continenti ci sono partner dell'International Journalism Collaboration. Questi partner cosa hanno fatto? Hanno deciso di lavorare insieme, di sviluppare degli studi su aree di studio locali, applicando tutti gli stessi standard, se vogliamo, progettuali, in maniera tale poi da poter confrontare i risultati sviluppati in tutto il mondo. Qual è stato l'approccio progettuale? Innanzitutto, si è partiti dalla considerazione che ci troviamo di fronte a nuove sfide globali. Ci sono fenomeni globali, crescita di popolazione, cambiamenti climatici, innalzamento del livello del mare, innovazione tecnologica, per esempio nei trasporti, se ne è parlato molto anche in questa conferenza. Quindi il primo problema è declinare localmente questi fenomeni globali. Questo è un primo punto. E secondo, si voleva cercare di capire proprio qual è il ruolo dell'innovazione tecnologica a supporto del progetto, nelle nuove infrastrutture innovative, anche nei modi di disegnare i possibili usi del suolo. Di questi 100 partner che hanno collaborato, 56 sono riusciti a portare a termine i propri progetti, progetti che sono stati presentati a febbraio proprio al quartiere generale della ESRI in California. Qui vedete un'immagine dei partecipanti. questo lavoro sviluppato in termini comparativi ci sta consentendo, ci consentirà, speriamo di rispondere ad alcune domande di ricerca di base relative al progetto e al geodesign. Per esempio, quali sono i sistemi da considerare in una progettazione integrata, alle differenti scale, nei differenti territori. Il gruppo di lavoro dell'IGC ha deciso di lavorare, di focalizzarsi in questo primo periodo, i 9 sistemi che saranno gli stessi per tutti. Quando parliamo dei sistemi, parliamo di sistemi di trasporto, infrastrutture verdi, sistema dell'acqua, residenza a bassa densità, commercio industria, residenza ad alta densità. Alcuni di questi sistemi fanno riferimenti a usi del suolo, altri a sistemi a rete o infrastrutturali. Ancora un problema è come identificare i scenari di sviluppo globali e la loro declinazione a livello locale. Ancora come valutare gli impatti e quale differenze possiamo riscontrare al passaggio di scala. Per rispondere a queste domande si è deciso di sviluppare progetti a due orizzonti di piano. Immaginando di partire a orizzonte 0 al 2020, si è progettato per il 2035 e per il 2050. Lavorando su nove sistemi standard più uno a scelta, considerando tutti le stesse global assumption, cioè questi assunti di fenomeni globali e declinandole a livello locale. Per ogni global assumption che è stata individuata dai gruppi di lavoro sono state prodotte delle schede che raccontano un po', fanno un po' lo stato dell'arte di questi fenomeni a livello globale. Per ognuno dei sistemi inoltre si sono studiate quelle che sono le innovazioni tecnologiche che dall'orizzonte 0 e fino al 2035-2050 ci possiamo aspettare di avere applicate in campo. Adesso si parla di veicoli autonomi, a guida autonoma, ci sono già progetti di ricerca, casi pilota, quindi se ne parla già, si stanno già facendo. Se però pensiamo a tecnologie come l'hyperloop, ne abbiamo sentito parlare nella plenaria ieri, forse dovremmo aspettare qualche anno in più. Quindi si è cercato di mettere un po' d'ordine e di creare una base conoscitiva condivisibile a livello internazionale su questi aspetti. E qui vedete un esempio di scheda, per esempio sulle innovazioni tecnologiche relativa al sistema dell'acqua. Tutti i gruppi di ricerca hanno lavorato su aree che erano modulari, in maniera tale poi da poterle confrontare, e hanno lavorato sviluppando tre scenari, lavorando secondo tre scenari, tre approcci, quindi progetti in cui dall'inizio i progettisti prendono in considerazione tutte le possibili innovazioni tecnologiche da subito, oppure scenari dove l'innovazione tecnologica viene presa in considerazione ma nel medio termine, oppure progetti in cui l'innovazione tecnologica non viene considerata. Quindi progetti come business as usual, come si può dire, affrontando il progetto come lo si fa tradizionalmente, come non si è fatto fino a oggi. A Cagliari abbiamo lavorato su due aree di studio, quindi abbiamo sviluppato due progetti, uno per tutta la città metropolitana, 80 km per 80 è l'area di studio, e poi abbiamo fatto un approfondimento, un secondo progetto su un'area a 20 per 20 km all'interno dell'area metropolitana. Un caso di pianificazione nuovo, parliamo di 17 comuni, in Sardegna come penso in molte regioni d'Italia non c'è tradizione di pianificazione intercomunale, nonostante il piano intercomunale sia uno strumento esistente, hanno parlato nel sistema della pianificazione italiana, però normalmente quando si pianifica a livello comunale si guarda all'interno dei confini comunali e non si cerca la cooperazione. Nel momento in cui nasce una città metropolitana e cambia l'ambito di studio, allora l'approccio al progetto deve essere completamente nuovo e le persone che hanno progettato, che hanno partecipato ai processi di governo del territorio fino a oggi devono per forza cambiare ottica. Se parlo di sistemi di trasporto, questo è evidente, una cosa è ragionare all'interno di un comune o una cosa è ragionare a livello di città metropolitana e questo vale per tutti i sistemi che consideriamo. Abbiamo sviluppato i progetti lavorando solo in digitale, non abbiamo visto carta, abbiamo lavorato solo al computer, con due classi di studenti nei corsi di ingegneria civile e di scienza dell'architettura all'università di Cagliari, una classe di 56 studenti e un'altra classe di 70 studenti che hanno lavorato a un unico progetto, tutti insieme, utilizzando una tecnologia che si chiama Geodesign Hub, che è una tecnologia GIS web-based, che è organizzata un po' come un social network, per cui ogni partecipante ha un suo account e entra nel sistema e interagisce con gli altri, così come facciamo per esempio con Facebook. questi sono esempi dei risultati progettuali, la qualità progettuale di questi schemi di assetto del territorio non è elevatissima, però il risultato interessante è che li abbiamo sviluppati in 15 ore, 5 sessioni da 3 ore con studenti che non avevano mai lavorato con GIS e non avevano mai lavorato nella progettazione in termini di pianificazione territoriale o urbana. Questo ancora qualche risultato, dal punto di vista del workflow di lavoro e dell'utilizzo della tecnologia, tutto il lavoro preparatorio è stato sviluppato in ambiente GIS desktop, abbiamo usato ArcMap in particolare e nella fase preliminare alla fase progettuale, che pure è una parte progettuale, abbiamo sviluppato per ogni sistema una serie di elaborati tematici, cosiddette mappe di valutazione, che orientano il lavoro poi dei progettisti che vanno a localizzare nel territorio progetti o politiche o infrastrutture o usi del suolo. Tutte queste mappe sintetiche hanno la stessa leggenda che utilizza i colori del semaforo, rosso fermati, verde vai, giallo attenzione c'è qualche problema. Questo lavoro è durato circa un mese da parte di tre persone esperte che usano il GIS da anni, che hanno esperienza, hanno accesso ai dati e sanno sviluppare l'analisi spaziale. Fatto questo abbiamo iniziato a lavorare con gli studenti utilizzando Geodesign Hub, abbiamo caricato le mappe, questo è uno screenshot proprio dell'interfaccia web dell'applicazione, abbiamo chiesto ai partecipanti di creare progetti organizzando una matrice in cui le colonne corrispondono ai vari sistemi. Vedete che tutto è codificato secondo colori, ogni colore giallo per esempio è residenza a bassa densità, qui c'erano una serie di un gruppo, un sottogruppo dei partecipanti che erano specializzati in quel sistema e hanno proposto i loro progetti. In particolare è stato chiesto ai partecipanti di lavorare sia su progetti di tipo tradizionale sia su progetti che includessero forme di innovazione tecnologica in relazione ai vari sistemi. In tre ore abbiamo popolato una matrice di, con un po' di preparazione, ma diciamo in tre ore abbiamo popolato una matrice di circa 200 progetti. Con questi 200 progetti, nella seconda fase, i partecipanti organizzati in sei gruppi che facevano riferimento a differenti scenari di crescita e a quegli orizzonti temporali del 2035 e del 2050 hanno iniziato a selezionare progetti dai vari sistemi per costruire dei progetti integrati, cosiddette sintesi. Qui vedete un confronto tra sei sintesi diverse. Il sistema consente dinamicamente ogni diagrammino che vedete e un oggetto interattivo. Se vedete una mappa vuol dire che si può cliccare dentro e si apre un geobowser in cui si visualizzano i dati ad alta risoluzione. Se vedete degli histogrammi, sono tutti histogrammi dinamici che reagiscono al fatto che io posso inserire o desinserire, selezionare o deselezionare un progetto nella composizione della sintesi. Abbiamo un dashboard interattivo che ci dà una valutazione degli impatti, quindi immediatamente quando io faccio una scelta progettuale vedo qual è la performance di quella alternativa. Dopodiché il sistema offre degli strumenti di negoziazione per partire da un numero di alternative ampio per mediare attraverso la negoziazione, costruire consenso, verso alla fine, cercando di ottenere alla fine se possibile una scelta finale che vada bene per tutti. Ecco qui qualche screenshot delle varie fasi di lavoro, i risultati del lavoro in ambiente GIS desktop, ArcGIS, qui l'interfaccia di Geodesign Hub. Ecco, questi due progetti sono stati presentati insieme ad altri 54 che peraltro trovate nel sito dell'International Geodesign Collaboration, potete googolare, trovate facilmente, dove troverete tutta la documentazione su The Global Ascension, System Innovation e i risultati del progetto. Qui vediamo alcune immagini, questo Jack Danger, Monka Steinitz, questa la caffetteria del quartiere generale della Esdria, Redlands, dove abbiamo presentato i progetti, abbiamo esposto, per ogni progetto è stato creato un doppio poster, un poster doppio a zero, e sono stati esposti insieme, quindi era possibile vedere effettivamente come tutte le scuole intorno al mondo hanno affrontato le varie scale e sono riuscite ad applicare queste regole. Questo è un esempio del caso di Cagliari, potete scaricare tutti i pdf di tutti i progetti, è molto interessante vedere anche differenti approcci, pur usando regole comuni dalle varie scuole negli Stati Uniti, in Europa e nelle altre parti del mondo. Per concludere, Geodesign, credo che da quel poco che ho detto si possa capire come tanti di quegli aspetti che ho citato nell'introduzione possano essere messi insieme in termini di applicazione di system thinking, ragionare sì per sistemi ma in maniera integrata. questo tipo di progettazione va bene per le fasi strategiche, in Italia si fa abbastanza pianificazione strategica, molto spesso per i piani strategici sono molto verbali, sono molte parole, pochi elaborati, poche scelte distribuite sul territorio. Questo metodo consente invece di avere degli schemi di assetto che hanno un'impronta spaziale attraverso un processo collaborativo, quindi è possibile mettere insieme le persone e cercare di far raggiungere un accordo alle persone, agli stakeholders, a chi deve prendere le decisioni insieme. Qui il progetto solo in parte lo fa il progettista o il gruppo che supporta il processo, ma di base i diagrammi li disegnano gli stakeholders, le scelte sui diagrammi le fanno gli stakeholders e la mediazione, la negoziazione la fanno gli stakeholders. Il progettista si limita a preparare le basi conoscitive e anche questo può essere fatto in vari modi, con un approccio più tecnico, con un approccio più collaborativo e a coordinare il processo. Sicuramente questo tipo di lavoro in certi casi può non portare a un progetto definitivo che poi viene adottato con un piano, però aiuta molto le persone a capire quali sono i problemi. Con i nostri studenti che non sapevano cosa fosse un piano d'area vasta, in 15 ore, mettendo ci le mani dentro, abbiamo visto che la curva di crescita, la comprensione delle problematiche ha avuto un'accelerazione grandissima. Quindi come strumento di awareness rising e capacity building sicuramente molto forte, in certi casi può portare a risultati, speriamo a risultati che poi abbiano un esito concreto nelle scelte di piano. Noi la vediamo anche, adesso speriamo, stiamo prendendo contatti con varie pubbliche amministrazioni, nel piano strategico della città metropolitana di Cagliari, la compagine che ha vinto ha proposto l'utilizzo di questi metodi, quindi speriamo di poterli applicare e magari l'anno prossimo tornare a raccontarvi anche come l'applicazione di queste metodologie si è sviluppata, avendo non in ambito accademico o misto, ma proprio in un ambito di pianificazione reale. Grazie.